Non è accettabile che la Popolare di Bari riduca ulteriormente la sua presenza proprio in Abruzzo. L'Abruzzo è la regione con il numero più alto di filiali all'interno del sistema della banca, 65 per l'esattezza, e inoltre garantisce una quota di mercato territoriale nettamente prevalente ancora oggi rispetto ad altri istituti. Su questa osservazione della realtà, il sindaco di Teramo e presidente Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, ha convocato un incontro urgente con l'amministratore delegato di Banca Popolare di Bari, Cristiano Carrus, per discutere del futuro dell'istituto di credito sul territorio teramano e abruzzese. Che strategie avete per l'Abruzzo? Guardi, la strategia per l'Abruzzo è uguale alla strategia per gli altri territori che serviamo, però l'Abruzzo è molto importante perché noi abbiamo 65 filiali in questa regione, e quindi per il gruppo MCC e per la Popolare di Bari, il territorio abruzzese rappresenta una situazione nella quale noi vogliamo tornare a sviluppare le attività territoriali, quindi sia gli impieghi che intercettare, se possibile, con la fiducia ritrovata, i risparmi della nostra clientela e quindi crescere armonicamente aiutando l'Abruzzo, che è in una fase di grande ricostruzione, a ricostruirla, se possiamo, con la stessa forza e la stessa volontà. Quindi non chiuderete le filiali? No, le filiali che dovevamo chiudere sono già chiuse, quindi non abbiamo in programma di chiudere nessun'altra filiale, almeno nel prossimo triennio. La Popolare di Bari, nota come Ex-Tercas, rappresenta soprattutto per le aziende Terramane un punto di riferimento per l'accesso al credito. Recentemente è stata soppressa la filiale di Alba Adriatica, una sede strategica per l'economia di questo territorio, e il disagio è davvero grande, come denuncia Gianmarco Giovannelli di Confcommercio Federal Berchi. L'escalation degli ultimi anni chiaramente ha creato degli assestamenti difficili, abbiamo cercato come responsabili delle imprese di fare un filtro sempre più realista e sempre più utile rispetto alle esigenze dei territori. Chiaramente abbiamo subito anche chiusure strategiche, una su tutte Alba Adriatica, Lungomare, l'unica banca su 37 chilometri chiusa, dicono da uno studio e da una società che si occupa di questo, ma io penso che è fondamentale invece avere un legame con la base, è fondamentale con l'educazione dire le cose come stanno, è fondamentale pensare che ancora oggi comunque Terramo è legato a questo brand che è Tercas, dal quale noi non ci staccheremo mai come imprenditori.